Allora per cominciare gli accorrerai che l'hai pa' compriti. Gli ha due forzature. Gli ha la forzature di Blanegre? Oui, e la forzature olivata. D'accord. Aci con la forzature di Blanegre. Gli ha la forzature di Blanegre che fa? E della truffa. D'accord. Della truffa. Allora, per cominciare, pia le ma truffa, bien sûr. Apriamo l'espasso alla macchina per il rapporto. E di l'utente, come si presentava? Trucava in una tona, in una punza, che era proprio complicato. Mi chiedeva un rapporto e poi diceva, parliamo. Dopo qui io mi chiedeva un gatto con la ripa, si riconcernava, mi chiedeva presa l'ultimo. Oh, 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 oh. Come raperi. Non è un grande cuore. De fatto si può fare. E poi la botte è gatto. E poi, quando viene gatto, aggiunga la levura alzacena perché con la farcadura più, che si non dire, più maleosa, vuoi dire. E d'un altro modo, un po' di farina di blan negra e un po' di farina blanca. Se non è un po' umidato, è un po' di farina feculà. Ho sentito i tre importanti per la farcadura. per la farina. Vora. E allora aprire, d'un ginplò, botte della farina di blan negri e passi ma astrufa, un cullio a succo, passi ma astrufa e la botte dell'aia buida e parelli, vien minuti, di cuisson, dentro dell'aia di salò. E ci si è passata al perno, ma a partire di ci che cobul, vien minuti. E se sono riuscita, la farcadura deve tornare un po' così. e la farcadura deve tornare a montare così. Si dimora con il fungo? Si dimora con i pavuccini, con i pavuccini che io con i pavuccini mancò. Ma è buono, c'è anche i cobuli, ci cobuli il fuoco e i pavuccini. con i pavuccini, 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 Si ci ho avanti subi l'o de cent quilo, pensai que... bom, era un panombrum, ma è buono, 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 non paio i la faccio, una reissetta... Terra, ad hanno bene le faccio decorated in una patina, era una pelle una pelle, erano una pelle, erano una pelle, erano roughsula con l' ma è buono qua i pavuccini diez pavuccini, e buttammo ci l'ardù e che ancora qui, menzellano a cu. E di l'hotel, noi cuginavamo bene? Beh, non cuginava bene, ma madre cucinava bene, perché se volia fare un buon chevere dell'Aquim o non importa, ma madre cucinava bene, ma madre era un soberfò, era un soberfò, era un soberfò, era un soberfò che era un soberfò che era un soberfò che era un specialità di s'agili. Ah, facciamo pa res più, no, no, no. E poi qui era una madre, una grande madre, lui, che era una madre, la madre che era l'uscita, ma è una cosa, ma è buon che era un certo sempre che aveva una cosa salida, aveva un soberfò che aveva un po' di più. E poi, con un dom di tutto, è buon… Una anedota, aveva 25 zoni che venivano a mezzo e aveva un giro che aveva un caglio che aveva un giro e un min, a me ne venivano a fare due o tre. e io gli ho sei che ti parli di un blagò perché non è possibile di poter menzare tant di farsadure e poi mi aveva la prima cosa che avevano fatto per 60 persone era piena, era piena di farsadure avevano avuto la farsadure la prima che la seconda cominciava mai via e io gli ho sei che poteva tutto il cuore e voi tornava a fare cuore avevano due che avevano avuto 20 a 32 e l'auto è da già io e beh, ci ha già fatto avevano avuto un giro, avevano avuto un po' di causa io potevo dire che furano è spattato e non avevano pa la macchina nino, mio nome, madrolla e io a tre ore dal maggio erano entrati a raspar la farsadure avevano fattato, avevano fattato, avevano entrato di bacina la macchina come qua era piena di farsadure ma lui diceva che mi torna riesco a mandare a farsadure non riesco a vinta a treza di un a non, trova con i trova, non poggiamo più e poi tre ore dal maggio che erano lì qua c'erano a prendere la farsadure e poi la rasparò beh, c'è quel intervallo ora si domandava a quando un zeune perché mi tornava io che sono fai isa d'abord non fa un po' la zeune non fa un po' di farsadure non fa un po' di farsadure non fa un po' di farsadure ma no a me sapevo che c'è un po' di farsadure a venire a fare la farsadure beh sì, anche io poi la fò perché non ha s'ambiccio e c'è un po' di piantino per rasparò a dei truffi ma è buono che è come qua eh non fa un po' di farsadure